buongiorno parliamo di rapporti di coppia e di tradimento le relazioni sentimentali non sono comprensibili secondo regole ben definite perché ogni rapporto rappresenta una storia a sé con i propri imprevedibili sviluppi e soprattutto ogni caso è unico a volte capita che la coppia non si renda conto che il rapporto aspettivo stia cambiando verso una ostilità di fondo questo può stupire la gente comune ma non l'esperto che conosce bene le ambivalenze dell'animo umano in questo clima astioso possono generarsi le emozioni più imprevedibili come l'odio che se prende il sopravvento può condurre anche allo scontro fisico in questi casi la capacità di analisi della persona è compromessa perché è offuscata dal risentimento così finisce per accusare il partner di essere l'origine di ogni male quando sono in atto dinamiche di questo tipo vuol dire che stiamo regredendo a livelli primitivi dove non ci sono freni inibitori ed è molto difficile gestire la rabbia che affiora insieme all'aggressività che ci fa scadere in comportamenti meschini e degradanti perciò scattano gli insulti compaiono gli sfonghi e nei casi peggiori si gioca la carta dell'indifferenza quindi arrivano i silenzi e i mutismi se è vero che le parole possono fare molto male l'indifferenza può colpire ancora più duramente perché getta l'altro nell'impotenza il problema è complicato dal fatto che all'interno dei rapporti amorosi non si è mai in due quasi sempre c'è una presenza fantasmatica o proprio una persona fisica che entra in gioco per questo nella coppia non si è in due ma in quattro ci sono i due partner più i loro rispettivi fantasmi che trovano una consistenza in tutta quella serie di proiezioni che l'uno riversa sull'altro e che poi lo rendono così particolare ed esclusivo infatti noi ci rendiamo conto di amare una persona quando la vorremmo sempre accanto ma che cosa succede quando ci si trova nella situazione di amare due persone in questo caso scegliere una o l'altra è doloroso perché le due persone sono diventate entrambe significative e allora amare due persone contemporaneamente può voler dire che la nostra psiche sta ricercando in due differenti direzioni la sua complementarietà la psiche è molteplice si potrebbe dire che ognuno dei due amori esprime un'esigenza di rispecchiamento che in quel dato momento appagata da due esistenze parallele ciò non dovrebbe stupirci visto che le dinamiche psichiche inconsce si muovono su un piano di contemporaneità infatti a livello psichico è vero tutto ed il contrario di tutto ma è pur vero che l'onnipotenza del desiderio poi deve passare per la porta stretta della realtà se da un lato l'inconscio trova naturale che coesistano allo stesso tempo situazioni tra loro contraddittorie è anche vero che sul piano della realtà alcuni valori vengono sovvertiti pensiamo per esempio ai sogni dove avvengono le cose più folli di questo mondo senza che la coscienza del sognatore venga turbata ma soltanto al risveglio ci si rende conto dell'assurdità del sogno e allora anche in amore come nei sogni ci accorgiamo di essere in una dimensione folle ma soltanto al risveglio cioè quando ci scontriamo con la realtà il fatto è che ciò che è giusto è vero per l'inconscio non trova nessun riferimento nella realtà e il paradiso che portiamo dentro finisce per trasformarsi fuori in un inferno soprattutto quando si deve scegliere fra due persone queste situazioni rivelano spesso una presenza del masochismo che ci fa trovare in circostanze che non riusciamo più a gestire nelle quali neppure la nostra intelligenza può esserci d'aiuto perché siamo abbagliati e non riusciamo a comprendere il senso degli eventi del resto la razionalità non può spiegare i sentimenti che sono per natura tumultuosi e imprevedibili quello che abbiamo davanti è un eclissi della ragione eros non ammette comprensione ma solo l'abnegazione al suo mistero la situazione è critica quanto complessa e non a caso crea sensi di colpa ma la domanda è esiste un modo per conciliare la totalità del nostro desiderio con le costrizioni del reale la risposta come ogni risposta che si rispetti è sigillata nelle più oscure profondità della nostra psiche ed è lì che dobbiamo andare se vogliamo sapere come diceva un vecchio saggio ci vuole una grande forza d'animo per ricordare a noi stessi che la nostra vita è cominciata da una separazione e che ogni altra separazione potrebbe essere la promessa di una nuova esistenza ecco perché più che agli altri dobbiamo appartenere a noi stessi bene come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube dove troverete tantissimi video come questo se vi iscrivete verrete informati sulla pubblicazione dei nuovi video potete trovarmi anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho creato una pagina chiamata la mia psicologia inoltre ho un sito che è www.robertoruga.it dove troverete varie pubblicazioni infine vi informo che faccio consulenze psicologiche con la videochiamata su skype su whatsapp su messenger oppure consulenze telefoniche per cui potete contattarmi al numero che troverete sotto nella descrizione del video oppure potete scrivermi a r.ruga.virgilio.it buona giornata